perché mi ha convocato la G? vorresti che l'ho capito il perché vediamo dai sentiamo quale è l'ipotesi dove si mette la chiave si apre entri quella è sicuro oppure qua come mi comporto allora intanto qua come ti comporti quindi non la passare liscia questa cosa perché se poi arriva effettivamente alla G il tuo comportamento mi sto comportando abbastanza bene perché tu passi dalla struttura al gabbione no non basta dal gabbione al gabbione non ci puoi mai non ci puoi mai non ci puoi mai non ci puoi mai ma 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 ci puoi mai ma ci puoi mai ma ci puoi mai ma un sacco di soldi dalla tosse ma proprio ma 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 pulitissimi proprio proprio puliti i tagliatori ma sai me che tosi è dritti dritti poi andiamo a prendere un coffee dal bara caro Tonio quando usciamo andiamo a prendere il coffee ma Ma tu, dillo apertamente, perché sono stato convocato? Per? 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 Dai, dì. Per che cosa? La chiave di che cosa? Per il mio appartamento, esattamente. Per il mio appartamento. Per i lavori del tuo appartamento. Esattamente. Probabilmente siamo alla svolta della ristrutturazione, perché siamo stati convocati insieme all'amministratore di sostegno, io e chi si deve occupare della ristrutturazione. Perché la G vuole sapere tutto, è chiaro, è normale, ed è giusto che sia così, è giusto dare spiegazioni. Perché voglio stare dentro a casa e tutte le cose. Quelle sono cose che tu magari dirai alla G. Alla G, è chiaro. E chi decide su questa cosa qua? Sembra la G, cioè la G. Sembra la G. In base a quello che dice la G, noi ci comportiamo. No, mi devo stare, io parlerò direttamente con la G. E c'è il pacchettino, tutti i foglietti, che ti ho fatto vedere da te, sì, ma lo dico chiaramente a me. E lo devo dare direttamente a me, di manuale a G. Direttamente a lei. Sei caro. Non si preoccupare. E cosa c'è scritto là? Non ti capisco cosa c'è scritto. Qual è il nostro ruolo in quei biglietti? Nessuno dei due. Tu lo devi vedere tu con me. Quella sei da pupata, lo devi vedere tu con me. Se hai aperto come stiamo adesso, c'è male capito? Hai aperto. No, non riesci proprio a evitare che ci vetti la mano. C'è una cosa, è infermata. Eh no, ma non sto, ma non sto a vele escancio. Eh, quindi poi, il tuo graffio è evidente. Scusami, scusami collega. faccio una cosa, dammela a me il pupazzo, vengo insieme a te, a fermare a tutti quanti, così faccio mi vedi a tutti quanti voglio vedere, ma questa è un'idea, assumerlo per un paio d'ore al giorno e io mi riposo, tu ti riposo, vieni con noi, fai quello che devi fare e poi l'aiongiolato, l'aiongiolato l'aiongiolato o l'aiongiolato? l'aiongiolato, il cash, il cash sei pronto? sono prontissimo questo giorno è un giorno importantissimo il 27 è un giorno importantissimo, adesso siamo sulla media bilancia, così stiamo arriva questo giorno che è importante, ti stai preparando comportamento impeccabile, altissima profumazione io ce l'ho sempre caro attilamento totale ce l'ho sempre, proprio quel momento gli occhi così ti devono uscire di fuori, ti avviso gli occhi così ti riusciranno sarà una giornata molto impegnata no, non ci pensare e fammi capire tu come andrai vestito esattamente come vado vestito tutti i giorni ecco, vedo che il mondo non è c'è fuori da fai che c'è che c'è quella che la giro mi c'è fuori ma dove hai la cicchetta? hai la graccione, dove hai la cicchetta? eh, eh, vengia, tu che farai, vengia? io, meno che meno, sei buono stai buono dicevamo, dicevamo tu sei pronto? sì, sono prontissimo ma, ci hai lasciato con il nodo in gola cosa tirai alla giro? io ci sto trovando in tutti i modi e tu ci provi in tutti i modi so io cosa dirai alla giro? la prima parola che hai, so io quale? almeno la prima parola ho trovato cosa? ci riportiamo l'acqua e vediamo se lui non ci riuscirà no, no, l'acqua mi serve l'acqua me la devi dare perché quella mi serve la mia frizzante mi serve che sono due o tre confezioni allora, solo la prima parola dici, solo la prima parola che devi dire no, un momento, uno solo uno solo, dai la prima parola la prima parola? perché voglio sapere perché queste due quasi neanche una settimana e più che mi stesse lasciando qua che vogliono andare al bar prendimi caffè e gli ho detto anche a lì bello, vado a prendere caffè andate pulito e il cheeeesh poi chiaramente lo so che mi dà un caffè chiaramente? che vuol dire? senza scontrino no, chiaramente questa dice che chi esce il cash? il cash lo chiede in prestito a te e poi in prestito e poi c'è un'altra cosa che mi devi dare com'è, com'è, com'è in prestito? sì com'è cosa gli chiedono al 12? no, lo so lo so io che devo chiedere tanto tu ma il camera deve stare lui con me e lo porterò pure a lui e così crede sì perché devi fare il cagnolino con me io ho fatto il cagnolino con te ma lo farei tu con me ah tu per tu come siamo adesso eh tu hai fatto il cagnolino con me ma qua dove vai? qua dove vai? guardi qua vabbè comunque e l'altra cosa sia non mi ha importato questo qua questo qua scusami dammi un atto no 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 rifallo sentire sta pieno? no mi serve l'altro ci piccola com'è quanto le metti dentro? metto qualche mè però una o due però mi serve l'altro di più di scorta me lo tengo perché mi serve di più eh e poi dalla giro andare con me con me con me beh occhiali da sotto il cappellino da farmi riconoscere ah perché mi conoscono le rischi ma è cotto non è cotto è cotto non è cotto mi diranno e da Walter quando andiamo mi vuole fare più elegante da Walter più elegante di quello che già sei sì sì tu sei al top dell'eleganza non si può arrivare oltre ma io voglio ma lui mi manda oltre più dell'eleganza perché quello che sento tuo mi manda più mi fa salire molto di più devo dire a Walter di farti salire oltre sì sì dillelo Walter preparati perché voglio che fly down ci stupisci con effetti speciali con effetti speciali e provi a vestirlo in un modo doc IGP doc doc è meglio mi raccomando Walter ti aspettiamo aspettiamo la tua convocazione dobbiamo andare nuda a lui perché dobbiamo andare nuda a lui che ha potuto parlare anche con lei con Margherita che deve chiamare perché dobbiamo adi però poi io avanzo una di queste qua avanzo da lui da Walter che tu hai detto no ma sai qua hai trovato delle scuse anzi vuoi sapere la verità vuoi sapere la verità c'hai anche un altro invito è buono è buono il bomber ti ha invitato il bomber ci mani quello è il problema ti ha invitato il bomber Silvio Sisto eh Silvio Silvio il bomber Silvio Sister il bomber hai un sacco di inviti lo so per ora è solo per ora è quasi tutto ragazzi arriverà quel giorno e quel giorno e quel giorno non è tanto tempo quel giorno è a breve eh sì grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti